Siete pronte matricole? Tutto in cerchio e lubrificatevi i pollici! Cioè, c'è quello che dobbiamo fare! Pollici superi il culo! Mi è appena venuta in mente una cosa. Questa è la settimana delle iniziazioni. I ragazzi saranno super impegnati. Ah, va bene. E ricoperti di sborro. Come, scusi? Ti dirò di raggiungerci più tardi. Dunque, dove si va? Qual è il piano? La nostra squadra non è ancora completa così. Per attraversare tutto il paese ci servirà un cavaliere. Migliore delle colonie. Ma dove troviamo un uomo del genere? Io credo di avere un'idea. La nostra squadra è una squadra. Come facciamo a capire qual è il miglior cavaliere delle colonie? Non sarà difficile accorgersene, Brew? Questi ragazzi vivono la loro vita un quarto di nitrito alla volta. Come facciamo a capire qual è il miglior cavali delle colonie? Quello che sarebbe? Paul Revere, orrà! Peccato per il cavallo, Paul! Salve, signor Revere! Mi scusi, signor Revere! Il paese ha bisogno di lei! Ehi là! Ho vinto io, mi avete visto? I cavalli mi piacciono! Voi due chi siete? Siete i miei nuovi amici umani! Ops, volevo dire amici e basta, perché oltre ai cavalli ho già un sacco di amici umani, mica solo amici cavalli! La situazione si fa ostica, mi sa che è colpa mia. Leviamo le tende, c'è la polizia, ma è una gioia! Via, via, via! Sono ricordi, sono riusciti, via! Via, via! Andiamo, ci vediamo! Presto, scappiamo! Via, via, via!